Nell'ambito proprio di una serie di servizi... Avevano precedenti perfurti, rapine, porto ingiustificato di armi e ricettazione i due napoletani arrestati in flagranza di reato per aver rubato alcuni giorni fa una trentina di stecche di sigarette di varie marche per un valore di 2200 euro. L'operazione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pesaro con i colleghi della stazione di Santa Maria è scattata durante un servizio di pattugliamento nelle vicinanze dell'uscita del casello autostradale di Pesaro. In via Brandani i militari hanno notato due persone sospette a bordo di una Opel Meriva di colore grigio e hanno deciso di seguirli. Poco dopo i loro sospetti hanno avuto conferma. I due individui Vincenzo Andreone di 53 anni e Giuseppe Grieco di 44 si sono recati nella sede della società pesarese che gestisce la rivendita di tabacchi per conto del monopolio di Stato. Lì hanno atteso un uomo e una donna, rivenditori di tabacchi, giunti sul posto a bordo di una Nissan che hanno ritirato uno scatolone per poi dirigersi verso la struttura sanitaria galantara di Trebbia Antico. I malviventi hanno seguito la coppia mentre tutto avveniva sotto il controllo delle forze dell'ordine a debita distanza. Una volta arrivati a destinazione, Andreone e Greco hanno agito. Appena la coppia è entrata nella struttura, i malviventi hanno forzato la portiera e rubato lo scatolone. A quel punto si sono andati alla fuga, ma i carabinieri, dopo un breve inseguimento, li hanno bloccati e portati in caserma per identificarli. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 500 euro, considerati provento dell'attività illecita, attrezzi atti allo scasso e la refurtiva nel baule della Opel. Durante ulteriori accertamenti, poi, i militari hanno ritrovato un jammer nascosto nel tettuccio della loro auto in un vano creato appositamente sopra le luci interne all'abitacolo. Questo strumento serve per disattivare gli allarmi e il sistema di chiusura centralizzata dei veicoli. Basta attivarlo con un semplice pulsante e il proprietario dell'auto crede di averla chiusa, mentre in realtà rimane aperta. Facile da gestire e utile per compiere furti. Anche se in questo episodio non sono riusciti ad utilizzarlo perché troppo lontani dalle loro vittime, probabilmente potrebbe essergli stato utile per mettere a segno altri colpi in precedenza. Stiamo verificando proprio per accertare effettivamente l'utilizzo di questo strumento in analoghi furti avvenuti in zona e anche fuori perché la vittima che ritorna sul veicolo e trova magari che ignoti ladri in qualche modo sono riusciti a portargli via qualche oggetto all'interno del mezzo ma non trovano, ahimè, un'effrazione che allora fa pensare a uno strumento del genere. Gli arresti sono stati convalidati? Gli arresti sono stati convalidati proprio a causa di questo modus operandi particolari, la scaltrezza dimostrata e quindi la pericolosità dei soggetti e i loro precedenti e anche il danno che comunque avrebbero sia compiuto sul mezzo perché il mezzo è stato danneggiato in maniera evidente e oltre i 2.000 euro comunque la rifurtiva asportata, i loro precedenti, quindi il giudice ha convalidato l'arresto e mantenuto la custodia cautelare in carcere per entrambi.